ci sono due metri e mezzo d'onda qui e anche tre metri di onda quindi dobbiamo assolutamente riparare. Una legge contro i poveri, i migranti e gli autoctoni, i resti di scarti per i quali in forza di un pensiero punitivo si vuole accrescere tutto il sistema penitenziario, tutto il sistema carcerario e tutto il sistema punitivo. Questo è quello che succede nel Mediterraneo sempre, continuamente, solo che soltanto quando ci sono in mare i testimoni della società civile si riescono ad avere informazioni in più e si riesce anche a soccorrere queste persone, salvarle e portarle in un porto sicuro. Avertire la rotta rispetto a chi ci vorrebbe soltanto divisi, rancorosi, spaventati, chiusi nelle nostre piccole patrie. Quindi viene prima, come dire, il mandato elettorale, in realtà il consenso conquistato attraverso appunto le forti macchine di propaganda, dello Stato di diritto. Voi che vi state affaccendando per pagare il mutuo a fine mese non avete capito niente, si scappa dalla guerra, è la parola magica. Derubricare delle persone che migrano, come dei clandestini, come delle persone che creano dei problemi di sicurezza è un messaggio grave. Su un piano che mette insieme piccola criminalità, decoro, e decoro è soltanto una parola decorosa per parlare di guerra alla povertà, e politiche anti-immigrati. Lui pensiamo e continuiamo a pensare che i migranti siano un problema, così questa notizia ci viene venduta e costituiscono degli occupanti che ci rubano il lavoro. Ma tutta la storia, anche gli strumenti ordinari, quelli del decreto flussi, in realtà nascondono una finzione, si tratta sempre di regolarizzare persone irregolarmente presenti nel nostro territorio nazionale, irregolarmente presenti perché di fatto non esistono meccanismi di ingresso legale possibili. La tipologia dei poveri del nuovo millennio è sterminata. Questi reati di cui abbiamo parlato, chi colpiscono? Gli irregolari, i clandestini, i tossicodipendenti, i matti, gli alcolizzati, i deformi, i barboni, i mendicanti, le prostitute di strada, i viado, i lavavetri, i posteggiatori abusivi, gli ambulanti senza licenza, gli inventori di mestieri, i benzinai improvvisati dalla Domenica, venditori di fiori o fazzoletti, ombrellai dei giorni dalla pioggia, zingari, giocolieri di strada, questuanti, oziosi, vagabondi, panca bestia con i loro cani, vecchi che frutano nelle pattugliere e vi elencando potenzialmente all'indefinito.